ciao a tutti a chi facesse piacere iscrizione gratis non si spende nulla iscrizione gratis e campanellina se vi fa piacere condividete il link del canale con i vostri amici interisti fateli iscrivere ma basta parlare confrontare e avere dei confronti civili io parlo con tutti mi fa piacere sono su youtube per confrontarmi mi piace questa cosa qua allora io non voglio mancare di rispetto a nessuno chiedo scusa per la voce ma ancora non mi ha detto il medico un'oretta fa che mi serviranno altri due tre giorni quindi ho una voce un po diciamo rauca io non voglio mancare di rispetto a nessuno ma la nazionale non mi dà emozioni come l'inter poi giuse secondo te mancini io su mancini ti posso dire una cosa il mancini è un grande è un grande scopritore di talenti a livello tattico anche lui non è un mostro l'europeo lo vince abbassando il baricentro e quasi arroccandosi in difesa quindi non è che l'ha vinto con delle mostre tattiche capito particolari spalletti almeno ci togliamo di mezzo l'argomento nazionale spalletti è un allenatore molto tattico che ha bisogno di tempo che ha bisogno di lavorare con la squadra quotidianamente per fargli assimilare tutto quello che lui chiede ai calciatori e se mi chiedi un'opinione io te la dico io ti dico gli allenatori come spalletti hanno bisogno di tanto tempo per la nazionale vanno bene fino a un certo punto tipo nages man anche nages man è un allenatore non lo so quanto possa essere adatto per una nazionale questi sono allenatori che hanno bisogno di stare a contatto tutti i giorni con i giocatori perché chiunque va in campo ha dei dettagli tattici particolari con questi allenatori per come la vedo io un allenatore della nazionale su cosa dovrebbe puntare te lo ripeto una mia opinione l'alleatore della nazionale selezionato selezionatore chiamalo come ti pare dovrebbe puntare su dettagli tattici assimilabili in maniera veloce quindi non tanto non roba complicata perché poi arriva qui centro la pista e con i suoi allenatori giocano un modo non te devi giocare in un altro mi serve tempo ti ti garantisco e non è facile se io vengo dalla mia squadra e gioco in un modo trovo un altro allenatore e nel giro di una settimana devo giocare in un altro modo non è facile perché ormai ho dei movimenti memorizzati in testa il mio cervello elabora in base a dove è la palla mi dice dove devo andare e con un altro allenatore devi ripartire da capo quindi secondo me un allenatore della nazionale concludendo deve giocare sulle motivazioni e su dettami tattici semplici un parrucca per esempio un conte con conte ci sono vedete ammi tattici semplici tutti arraccati contro piede del via una roba del genere ma deve essere un ottimo selezionatore mancini era anche un grande gestore di personalità attenzione le personalità un po particolari mancini è sempre stato bravo a gestire però ecco l'allenatore della nazionale non ha tempo deve essere capito deve creare un istantim per creare un istantim deve cercare per come la vedo io dei calciatori particolari e dargli dei dettami tattici particolari senza chiedergli la luna a livello tattico quindi se io fossi ok l'allenatore della nazionale cercherai i giocatori con motivazione con intensità che abbiano intensità motivazioni soprattutto tante e darei dei dettami tattici molto semplici chiuso la nazionale chiuso c'ho altri due minuti di autonomia ora l'inter contro il derby schiederà la formazione titolare no abbiamo visto che danfris a quattro si trova meglio te l'ho sempre detto danfris nasce a quattro danfris a quattro rende molto di più che come gioco all'inter perché se vi ricordate anche lì ero al mare dissi prendiamo questo esterno destro dell'olanda quando andò via chimi visto che non ci sono soldi ragazzi di lasciate le chiesione dati lo sanno questo danfris lo vedevo che comunque portava sulla palla bene dialogava bene con depai e fece il nome di danfris dopo 20 giorni danfris al limite qualcuno davvero ha creduto che c'è chi c'è chi che io ho capito che io praticamente facendo il suo nome avevo smosso chissà che ragazzi ma 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 siamo matti io dissi ci sono poi i soldi sapevo costava 10 15 milioni dissi prendiamo danfris a chi mi stava andando via doveva essere venduto sempre per il solito problema da chi si gioca molto meglio a quattro che a tre tornando a danfris ora tutti i titolari contro i derby poi via il turnover in zaghi è un allenatore sappiamo tutti e fa molto turnover attenzione attenzione te l'ho già detto due volte te lo voglio ridire una terza per un allenatore come in zaghi è più importante avere una rosa ampia livellata esce uno forte 9 entra uno forte 8 questo intendo che 11 titolari più forti attenzione questa storia della rosa per in zaghi può essere una mano del cielo per come gestisce e il turnover lui con il milan niente turnover non esiste sperando sempre tornino tutti belli sani e forti ma poi dopo comincerà il turnover allora turnover dove abbiamo problemi secondo me sulla destra il numero 7 il numero 7 dell'inter quello che hanno preso dalla juve quello non ha più 90 minuti nelle gambe da circa due anni quando perde palla allora cerca di saltare l'uomo se perde palla non ricorre quindi quello è un giocatore al livello atletico non credibile per più di 20 minuti e mezz'ora quindi anche lì darmianne e pavar quando dovrà di riposare danfris secondo me gireranno molto tra braccetto ed esterno tutta fascia vedrete si smazzeranno diverse partite darmianne e pavar motivo per cui pavar serviva no poi può giocare anche centrali lo sappiamo ma bisse perché questo anche perché bisse che non è pronto io te l'ho detto un mese fa alla seconda volta che l'ho visto giocare io ti ho espresso la mia opinione stai tranquillo io non ho la verità in tasca ti sto dicendo quello io ti ridico quello e ti ho detto un mese fa livello tattico e grezzo non è pronto non ha il timing giusto non mi piace nell'uscita palla è un ragazzo quello da dare a juric lo dai a juric un anno due e poi ti torna forte ma perché le potenzialità ce l'ha ma ad oggi non è pronto motivo per cui darmianne e pavar si dovranno smazzare tante partite su quella fascia quando fai riposare danfris che a quattro è molto più forte te lo dico da quando l'abbiamo comprato e danfris a quattro è molto più forte io non mi stupisco delle partite sta facendo in nazionale anche perché il ragazzo la settimana scorsa cosa ha detto ai giornali olandesi a quattro mi trovo meglio bastava conoscere i giocatori quindi bisec via il numero sette della juve non ci conto quindi sono già due elementi su cui a mio avviso si può contare fino ad un certo punto il numero sette della juve secondo me venti minuti mezz'ora ma non di più non ha 90 minuti nelle gambe da due tre anni ripeto non ricorre nemmeno l'avversario facci caso se se non riesce a saltare l'uomo ma veniamo al punto l'inter quest'anno aveva bisogno ha bisogno di un attaccante scusate l'inter ha bisogno quest'anno di un attaccante fisicamente credibile al posto dei due lì turam e lautari quindi uno tra arnatovic e sanchez deve essere fisicamente credibile perché altrimenti o l'allenatore si inventa un altro modulo tattico cosa a mio avviso molto difficile oppure ne potremmo risentire e questa è l'unica pecca di questa rosa e comunque alla fine una rosa di tutto rispetto ma su quei due tre bisogna vedere soprattutto gli attaccanti trentacinquenni sono stati presi cosa possono garantire a livello fisico perché se uno dei due io punto un po' più su arnatovic ti dico la verità perché se arnatovic è anche quello degli ultimi tempi di bologna ci può fare comodo sanchez lo vedo un po' come il quadrato giocatore da un tempo massimo non di più e da una partita da titolare ogni tanto ragazzi con questo concludo vi do un abbraccio i giorni stanno passando ora vediamo cosa succede con gli ucraini e ovviamente alla nazionale gli auguro tutto il bene possibile immaginabile però ragazzi la mia nazionale l'inter ciao